Anche a Pescara, dove lavorano come badanti, numerose ucraine vivono con grande trepidazione e paura per figli e parenti rimasti in patria queste ore con eventi di guerra che continuano a soffiare da Kiev. Una manifestazione di solidarietà per sensibilizzare i tanti cittadini pescaresi e dell'intera regione è stata organizzata dall'Associazione Interculturale Ucraina Nessun Escluso e da Anorf per domenica pomeriggio presso Piazza Sacro Cuore del Capoluogo Adriatico a partire dalle ore 15 e 30. È una guerra veramente innocente, un'invasione, anche se dicono che non è vero, ma vedete anche voi che questa è pura verità. Ragazzini da 18 anni in su che prendono le armi e lo puntano agli altri ragazzi, questa è una cosa insupportabile, che nessuno non lo può guardare con tranquillità. Iniziativa sposata appieno dal gruppo comunale dell'Udc di Pescara, il quale prenderà parte senza esporre bandiere di riferimento politico e che si dice pronta già all'organizzazione di una raccolta di cibo e di indumenti. Ovviamente noi chiediamo immediatamente, come lo stiamo chiedendo adesso tutto il mondo, il cessato e il fuoco. Appena ci sarà il cessato e il fuoco ci organizzeremo e faremo come abbiamo fatto per il Covid, l'Udc si piegarà di nuovo le mani e faremo una raccolta di cibo, indumenti e quant'altro che attraverso le donne che lavorano qui saranno avviate, inviate ai cittadini lì di Chieve perché poi ci sarà bisogno ovviamente di ricostruire e quindi di ricostruire anche dal punto di vista sia del vestiario che alimentare.